Ciao a tutti! Siamo a Capri e durante il nostro giro dell'isola di Capri passiamo davanti ad una spiaggia che potrebbe quasi passare inosservata, ma è nota per essere una spiaggia molto apprezzata dai capresi, la spiaggia del Lido del Faro. A dire la verità non è proprio una spiaggia, ma più una baia rocciosa. Quello che rende speciale questo luogo, oltre all'imponente sagoma del faro, è la possibilità di godere del sole dall'alba al tramonto. Il grande faro sorge sulla scogliera della punta estrema dell'isola di Capri. e mentre passi con la barca lo ammiendo al basso verso l'alto. Il faro fu acceso per la prima volta nel 1867 ed è tra i maggiori fari italiani per dimensioni e potenza di l'illuminazione dopo quello di Genova. Girando l'angolo e passando oltre la scogliera del faro, ci dirigiamo in direzione della Grotta Verde e di Marina Piccola. Da qui si cominciano a scorgere e di intravedere i famosi faraglioni di Capri. Ciao a tutti! Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al nostro canale, metti un like, iscriviti al nostro canale e iscriviti al nostro canale. Ciao al prossimo video! Ciao!